Una storia tormentata, una storia infinita, due cuori che sbattono per una donna, che battono per una donna, Anastasia, una rivale mediosa, un medico ambito, una vicenda che li verrà incollati alla serie, Anastasia. Ogni giorno, quattordici e trenta, net for the fire. Pedraldo, Pedraldo, sei stato la rovina della mia vita, Pedraldo. Felipe Armando Mucciogusto, questo tuo dono non mi piace per niente. Pedraldo della Bombonera, pensavo di essere stato chiaro. Anastasia è mia e guai a chi me la tocca. Anastasia sarà di chi vuole lei. Lei non vuole che me e non vuole te. E invece lei vuole me e non vuole che tu vuoi volerla. Sei tu che vuoi che lei non vuole che mi vuole, ma io so che lei mi vuole ed io voglio lei. Tu vuoi che ti vuole perché non vuoi che la voglio io, ma io la voglio perché so che lei mi vuole. E tu non vuoi che io la voglio perché sai che lei non ti vuole. Sei stato molto chiaro, Pedraldo della Bombonera. Sei stato chiaro anche tu, Felipe Armando Mucciogusto. Questa storia è un perdente e non te lo accetto io. Felipe, Pedraldo. Anastasia, amore mio. Anastasia, luce del mio cuore. Ora lo sentirai anche da Anastasia che lei vuole me e non vuole te. Non fatti illusioni, Felipe Armando Mucciogusto. Anastasia vuole me, non vuole te. Diggielo anche tu, Anastasia, che tu vuoi me e non vuoi lui. Anastasia, che tu vuoi me e non vuoi lui. E' chiaro a me ed è chiaro a te. Ti do chiaro anche a lui. Pedraldo della Bombonera, Felipe Armando Mucciogusto. Voi sapete quanto vi voglio bene. E non voglio che mi vogliate male, se non voglio quello che volete voi. Sei stata molto chiara, Anastasia. Molto chiara. Io voglio bene a te, Pedraldo. E voglio bene a te, Felipe. Ma non voglio che questo mio voler bene, voglia per voi dire che non mi vogliate più bene. Voglio perciò che il vostro volervi bene non sia meno voglioso per la mia voglia di volervi bene. E perciò voglio dirvi addio. Anastasia! Non me ne volere, Pedraldo. Non voglio che tu me ne voglia. E non voglia più volere di aver voglia di Felipe. Anastasia, non ti capisco. Neanch'io mi capisco, Pedraldo. Ma così sta scritto sul copione. L'hai capito? Non ho più alcun senso senza di te, Anastasia. Non dire questo, Pedraldo. Ti resta Felipe. Allora, ancor me ne ho senso. Addio Anastasia, voglio che tu sappia che sarai per sempre nel mio cuore. E tu nel mio, Felipe. Felipe, amore mio. Chi è questa donna, Felipe? Maria Concetta Consesau, il suo unico grande amore. Anastasia, non è vero. Questa donna è pazza, oltre che sciancata. E il mio cuore che è sciancato per te, Felipe. Anastasia, lo vedi? Lui non diventa. Ama la sciancata. Non da diretta Anastasia. Questa donna, questa donna non conta nulla per me. E ti viene ad inviato come l'edera? Sì, sono la sua edera e tu la sua granigna. Maria Concetta Consesau, me l'hai proprio sgranignata adesso. Lasciami! Ti ho detto mille volte che non voglio saperne di te. Non è vero, tu mi ami. Tu l'ami. Tu l'ami. Anastasia, no. Sei fissata che l'amo solo perché abbiamo visto insieme via Polbetto a Cinepolum. Sì, Felipe, sono la tua Rossella. E tu, il mio Black Devil. Hai sentito Anastasia? Due porci depravati. Ma dei giochi di buono. Ma dei giochi, Felipe? Sì, facciamo i giochi. Quei giochi che tu non farai mai con mio Felipe. Non darle retta Anastasia. A questa è più sciancato il cervello che l'altra. Felipe, amore mio, tra dieci giorni farò l'intervento e non sarò più sciancata. Mi hai fatto diciannove Maria Concetta Consesau e ti vedo sempre più sciancata. Perché questa volta dovrebbe andare bene. Perché il dieci è il mio numero fortunato. E' il quarte del cinque, del sette e del nove. E ti vedo sempre qui a sciancare la mia pazienza. Ma non avevo letto il mio oroscopo. E poi, stavolta, mi opera il dottor che curo. Sono molto computa, Felipe. Anastasia, non vada a me l'infame alla sciancata. Fuggisci con me. Fuggi. Dove? Come dove? Che ne so. Hai detto tu fuggi. La grammatica. Vedrò la grammatica. Che cosa? Trovarlo. Una meno fregata di voi due. Io sono fregato di testa per te, questa mia. Eppure io. Eppure io. Tu è. Oh, Gesù, e nemmeno più di cui succede queste cose. Che hai capito? Ipera, velenosa, astiosa, ingiuriosa, caziosa, rigorosa, rancorosa. E che cosa, Consesao? Basta! Abbiamo capito. Tu così ce le scianti a tutti quanti. Che ne è Consesao? Così ce li soffra. Tutta cosa. Grazie, grazie davvero, dottor, che culo. Grazie. Morre libera dietro il mio Felipe. Le prati, i boschi, i mari e i mondi. Mmm, ma soccorre anch'io di caso Felipe. Anastasia, ruggisci con me. Voglio dire, muggisci con me. Non so, voglio dire, fuggisci con me. E solo scappa con me. Non vedi a che livello schiavo. A lei, su quello lì non mi piace per niente. Vorrei darle un'occhiata al colo. E di passaggio, già che ci stiamo, anche al toraccio, all'addome e alle cosce. Venga domani alle nove, nel mio studio. Solo, mi raccomando, questo è l'indirizzo. Ma dottor, che culo. Domani alle nove c'è la mia visita di controllo. Non si preoccupi, signora Consesao. Lei sta benissimo. Per lei farò ricorso a una mia tecnica rivoluzionaria che darà grandi risultati. Che meraviglia, dottor, che culo. Che tecnica è? L'impianto a terra ha un pezzo di criptonite nell'anca. Così, se va male a questa volta, resterà sciancata. Ma mi diventa super uomo. Hai sentito? Sarò super uomo. La tua super donna. Dottor, che culo. Lei non può farmi questo. Io non voglio questo rospo. Ma con un tuo bacio diventerò la tua principessa. L'acqua super principessa. Non voglio darti un bacio. Posso dartela io, se ne vuoi. Io, io voglio un bacio da Anastasia. Felipe, sono turbata. Troppo turbata. Ha perso, ha perso, ha perso una perturbazione. Ho bisogno di stare da sola. Vado via. Anastasia, vengo con te. No, Pedraldo, questa storia sta diventando stagnante e begnosa. Devo pensarci su. Cos'è sa, la patura? Sparisci, donna facile, con pudina senza pudore. Sono io l'anima giamella di Felipe. E se ti avvicini ancora a lui, te ne pentirai. Maria Concetta, con sei sao. Perché lui ti prendi Pedraldo? L'hai sentita, Anastasia? Questa storia è stagnante. Baciate lui. Tuo rospinello stagno è perfetto. Maria Concetta, con l'Ibao, con Gimao, o come tacchio ti chiami tu. La tua anca sciancata ha sciancato la mia vita. Me la pagherai tu e farò spoverire. Lo vedremo. Inutile individuo. Domattina le nove che la tua madre ha detto. Dottor Chicuro, che si tenga questa donna e la sua anca sciancata. Addio! Felipe, amore mio, domani è un altro giorno. Ah, dottor Chicuro, io amo tanto il mio Felipe e non voglio più essere sciancata. Mi dica la verità, quante possibilità ho che la mia anca non scianchi più? Non lo so, signore della Consensale. È un intervento a culo. Perché, signora, mi chiamavo così?